jazz collection viene declinata in cinque persone visive differente è un nome particolare perché è come il sound di tutto il jazz che varia sempre cambia in continuazione ma ha sempre un filo conduttore riconoscibile questi divani hanno la struttura portante uguale per tutti quanti ma cambia il visivo lavorandolo col testo e con la pelle o con vari colori si vede tutto varia nei moduli nella profondità nelle isole nelle parti con bracciale senza bracciale questa struttura è una struttura fatta in alluminio per cui tra l'altro è anche un materiale riciclabile questo per me è molto importante ed è una esclusa di alluminio fatta posta per orm e è una struttura tra l'altro che va in colorazione una grigia poi c'è un'arancia particolare un po' mattone un po' molto bello orm è un'azienda che ha dei prodotti meravigliosi ma sono come delle punteggiature mentre l'essere umano abita abita un divano abita un living abita uno spazio e dunque unendo il concetto dei divani dei tappeti e di tutte le punteggiature di ormo nasce questo concetto di totali e l'abbiamo fatto in modo ormoso ce l'abbiamo fatto alla orma qualunque serefini ormo insieme mettono la creatività e la tecnologia insieme senza mai dimenticare che disegnare un prodotto vuol dire vestire di emozione una funzione la funzione deve esserci chiara fatta bene tecnologicamente avanzata e l'emozione è quello che vogliamo dare noi è il nostro cuore quotidiano